È morto il boss mafioso, Matteo Messina Denaro! Nel nostro video di oggi parleremo di una notizia di grande rilevanza riguardante il mondo criminale italiano. Il protagonista è Matteo Messina Denaro, noto mafioso latitante per 30 anni, catturato il 16 gennaio. Tuttavia, una grave malattia al colon diagnosticata nel 2020 lo ha condotto alla morte. La sua cattura è stata influenzata dalla malattia, secondo le sue stesse parole. Messina Denaro aveva riconosciuto solo di recente sua figlia Lorenza Alagna, portandola a diventare ufficialmente una Messina Denaro. Il boss è stato condannato per le stragi, come ad esempio quelle di Capaci e Via D'Amelio e Omicidio, anche se ha cercato di dissociarsi da questi reati, come da quello del piccolo Giuseppe Di Matteo. Prima di continuare, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di attivare tutte le notifiche tramite la campanella. Grazie. Ha sempre negato di essere un mafioso, affermando di essere un criminale onesto. La malattia lo ha costretto ad abbandonare la sua latitanza e ad usare un cellulare. Questa transizione inevitabile è avvenuta quando è stato ricoverato in ospedale. Nonostante la sua rassegnazione, Messina Denaro ha mantenuto il mistero sui suoi soldi e il patrimonio accumulato. Purtroppo, la malattia ha messo fine alla latitanza di Messina Denaro e alla sua vita. La sua morte ha portato alla luce una pagina importante nella storia del crimine italiano. Cosa pensate delle circostanze che hanno portato alla cattura di Matteo Messina Denaro? Lasciateci la vostra rispettosa opinione nei commenti. Condividete questo video per rimanere informati sulle notizie più importanti dal mondo del gossip e delle notizie italiane. Grazie per la visione.